La 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 Chi è? Corro ad aprire chi è? Ma che sorpresa il postino mi porta una lettera scritta da te. Io ti credevo già qui, cosa puoi dirmi non so, non riesco a pensare, non voglio, non posso. Mi ferma il cuore perché mi sta dicendomi che non può morire due volte per questo mio amore, che amore non è. Invece non è così, adesso che non è qui, so che nel mondo c'è ancora qualcosa di vero. Alla fine non pensavo fossi tanto amata perché non credevo nell'amore, ieri no, ieri no. Tu, l'amore, so che adesso mi farà impazzire perché adesso io dovrò morire senza te, senza te. La, 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 la. Non sa la porta chi è, corro ad aprire chi è, per un momento che è strano creduto di correre verso di te, non c'è nessuno però, era il mio cuore lo so, che mi batte forte e più forte per dirti ritorna. Alla fine non pensavo così tanto amara perché non credevo nell'amore, ieri no, ieri no.